Ciao ragazzi e bentornati, io sono Antonio e oggi nuovo video a tema Harry Potter e finalmente sfoglieremo assieme l'edizione illustrata di Mina Lima della Camera dei Segreti. Pensavate me lo fossi scordato? E un po' è vero, avete ragione, me l'ero scordato. Ma ragazzi, prima di cominciare vi ricordo che in infobox trovate il link alla mia vetrina Amazon. Accedendo ad Amazon tramite quel link potrete acquistare o qualcosa dalle mie vetrine o comunque qualsiasi cosa su Amazon, il sito mi riconoscerà una piccolissima percentuale che servirà a far crescere il canale e a mantenerlo. Mentre su Pampling, utilizzando il codice sconto 7Potter, avrete sempre un paio di pezzini in omaggio e lo sconto è accumulabile con tutte le iniziative in corso. Questa è la mia maglietta a tema Harry Potter con le quattro case che trovate anche in versione felpa e in versione poster, cover, tazza, qualsiasi altra cosa, bottiglia e chi più ne ha più ne metta. Su Pampling, quindi link in infobox. Detto questo ragazzi, piccola premessa, prima di cominciare a sfogliare assieme il libro, io l'avevo già acquistato diversi mesi fa. Infatti ecco qui la mia copia in inglese della Camera dei Segreti. Questa volta l'ho presa su Amazon, mentre l'anno scorso la Pietra Filosofale l'ho acquistata direttamente dal sito MinaLima e infatti mi è arrivata autografata. Quest'anno non l'ho fatto perché a causa della Brexit, visto che ormai qualsiasi cosa si acquisti dall'Inghilterra viene sovraccaricata da tasse, da dazzi e da mille altre cose e infatti in molti mi avete scritto che avete dovuto pagare circa 30-35 euro di spese doganali al postino quando vi ha consegnato il libro. Io invece l'ho ordinato direttamente su Amazon, non è autografato, pazienza, magari prima o poi incontrerò MinaLima e me lo farò autografare da loro, ma ragazzi tant'è, l'ho pagato semplicemente il prezzo di copertina. Volevo fare la recensione già con questa copia, ma poi l'ho scordato. E nel frattempo naturalmente è arrivata anche l'edizione Salani in italiano. Eccola qui, non l'ho ancora aperta, l'ho acquistata il primo giorno al centro commerciale tranquillamente, ce n'era una vagonata. E ragazzi, quindi a questo punto approfitto per fare la versione italiana, quindi per mostrarvi la versione in italiano. E niente, fatta questa piccola premessa, ragazzi, cambiamo inquadratura e andiamo a scoprire questo meraviglioso volume assieme. Ed ecco qui i nostri volumi della Camera dei Segreti e prima di cominciare vorrei mostrarvi una cosa curiosa. Sulla costa dei volumi, quello inglese e quello italiano hanno una differenza. La parte superiore di questa piuma è invertita. Non so se lo stesso accade anche nelle altre versioni, nelle altre lingue, ma anche la pietra filosofale ho notato che ha la piuma invertita, come in questo caso. È un fatto curioso, non so perché l'abbiano fatto, ma mi piace. Adesso sfogliamo il nostro volume e scopriamo come è fatto all'interno. Le illustrazioni sono sempre bellissime, soprattutto quelle all'inizio di ogni capitolo. E ragazzi, infatti, ecco qui il peggior compleanno. Troviamo Harry a tavola con i Dusley. E poi continuiamo e troviamo Harry che sogna Hogwarts, il campo da Quidditch. La rappresentazione di Hogwarts di Mina Lima mi fa impazzire, sempre bellissima. Questo è il giardino dei signori Weasley. E poi ancora Harry che va a lavare la macchina, taglia l'erba, quindi fa le sue faccende a casa dei signori Dusley. Forse prima ho detto Weasley, ma ho sbagliato, intendevo Dusley. E poi ecco qui che abbiamo anche la cameretta di Harry con il piccolo Dobby. E infatti ecco che abbiamo il capitolo, l'avvertimento di Dobby. Questa è la scena iconica della torta in testa alla moglie del capo del signor Dusley. E poi abbiamo anche Edvige con una lettera. Ed ecco qui che abbiamo i Weasley che vanno a salvare Harry dalle grimpie di zio Vernon. E finalmente arriviamo alla Tana. Molto belle queste immagini qui che si dividono in due pagine, mi fanno sempre impazzire. E poi ecco qui il primo elemento in movimento. Abbiamo la Tana e ragazzi è davvero bellissima perché la Tana si apre se solo riuscissi a farlo. Ecco qui vediamo tutto quello che c'è al suo interno. Guardate quanto è bella. È davvero una figata. E ragazzi io ci perderei le ore a spulciare l'interno della casa. È davvero super super bello. E troviamo le stoviglie che si lavano da sole della signora Weasley. I libri di Gilderoy Hallock. Il giardino. Guardate quanto è bello. Mi piace davvero un sacco ragazzi. Guardate i raggi del sole. È bellissimo. E poi ancora il signor Weasley che devo dire è un po' più brutto di quello che in realtà è nei film. E poi la camera di Ron totalmente arancio. E anche questa scelta mi piace parecchio. Passiamo al Ghirigoro. Quindi arriviamo a Diagon Alley. Abbiamo i ragazzi con le scope. E ecco qui un nuovo elemento interattivo. Abbiamo Harry all'interno del camino che poi va a finire all'interno di mille altri caminetti. Per poi atterrare a Nottingham Alley. Piano piano ci avviciniamo al Ghirigoro. Eccolo qui. Abbiamo il professor Hallock che trattiene Harry per farsi delle foto. Bellissima anche questa illustrazione con la stazione di King's Cross sullo sfondo. Davvero molto molto bella. Ed ecco qui il platano picchiatore con la macchina che ci va a finire dentro. Continuiamo il nostro viaggio. Abbiamo il professor Piton con una copia del giornale dei babbani e la strillettera di Ron. Passiamo agli il deroi Hallock. O Lockhart. Ormai con i nomi ci siamo un po' impantanati con le varie traduzioni. Qui passiamo alla professoressa Sprite con questa serra bellissima. E a proposito di serre ecco che abbiamo la mandragola. La mandragola che va estratta dal suo vaso. Ragazzi guardate quanto è carina. È davvero bellissima. E ci guarda anche dalla crepa del vaso. Nina Lima sono dei geni. Davvero dei geni. Continuiamo ancora e troviamo i nostri folletti della cornovaglia. I nostri pixi. In questa illustrazione bellissima che prende entrambe le pagine. Poi questo spaccato dall'alto. Quest'aula vista dall'alto con tutti gli studenti in subbuglio. I pixi che volano. Dà davvero questa sensazione di profondità. Ed è qualcosa di fantastico. Ha una prospettiva bellissima questa illustrazione. E poi andiamo ancora avanti. Troviamo il capitolo Sussurri e Sangue Marcio. Quindi finalmente abbiamo Sangue Marcio. La versione corretta. E poi sempre Allok presente anche durante la partita di Quidditch. Troviamo la macchina di Colin Cannon. E ecco qui Ron che va a vomitare le lumache. Come abbiamo visto anche nella scena del film. Tantissime le lumache sui bordi delle pagine. E poi nuovo elemento interattivo. Abbiamo i quadri in movimento di Allok. Bellissimi guardate qui abbiamo la tenda che poi si apre e rivela Allok nella vasca da bagno. Qui abbiamo Allok che insegue se stesso. È davvero molto molto carina. La festa di comple morte. Anche qui illustrazione bellissima. Sezione del film rimossa che non abbiamo appunto all'interno della pellicola. Ma che abbiamo nei libri. E che è molto molto interessante da andare a leggere. E poi le solite punizioni di Harry col professor Allok. E si passa ad Halloween. Anche queste molto belle le illustrazioni. E poi i fantasmi di Hogwarts. E ancora la camera dei segreti è stata riaperta. La scritta sul muro. Poi troviamo il professor Roof. Che è il professore che racconta la leggenda della camera dei segreti a ragazzi. Che invece nel film è stata sostituita dalla professoressa McGranit. Perché il professor Roof non lo vediamo mai all'interno dei film. Qui abbiamo i quattro fondatori. E quindi tutta la storia dedicata alla camera dei segreti. Qui abbiamo anche i ragni. Che iniziano ad avere la loro importanza. E poi Mirtilla malcontenta nel suo bagno. E poi il volide pirata. E ragazzi. Ecco qui questa bellissima illustrazione della biblioteca. È davvero fuori di testa. La quantità di dettagli che abbiamo in questa illustrazione. E qui abbiamo la ricetta della pozione Polisucco. Anche questa è l'illustrazione fenomenale. Poi passiamo alla partita. E quindi al volide che rompe il braccio di Harry. E qui abbiamo anche la pozione Ossofast. Quindi molto molto bella anche questa nuova interpretazione della bottiglia. E poi andiamo ancora avanti. Il club dei duellanti. Qui troviamo Ron e Hermione che preparano la pozione Polisucco. E continuiamo ancora. Le illustrazioni ragazzi sono tantissime. Praticamente almeno una pagina sì e una pagina no. Abbiamo delle belle illustrazioni. Questa addirittura del club dei duellanti. Guardate. Illustrazione a doppia pagina con tutti i ragazzi che si allenano. Davvero molto molto bella anche questa. E poi abbiamo l'inverno con Hagrid. Che va a spennare le galline. Molto divertente. E poi ecco che troviamo già lo zampino del basilisco. Perché troviamo il fantasma pietrificato di Nick quasi senza testa. E qui abbiamo uno dei pop up forse più belli in assoluto ragazzi. Perché si tratta della porta d'ingresso dell'ufficio del professor Silente. Che è qualcosa di spettacolare. Se sovi riuscissi ad aprirla. Ok bisogna sollevare questa parte. E poi tirare i due muri laterali. Ed ecco che scopriamo la scala a chiocciola. E' Enrico e la professoressa Meggranit. Che si recano nell'ufficio del professor Silente. E' davvero molto ingegnosa. E' molto molto bella. Capitolo dedicato alla pozione polisucco. Ecco Enrico che arriva nell'ufficio di Silente. E assiste al falò di Fanny. Davvero molto molto bella. Anche questa quante volte avrò detto molto bella all'interno di questa sorta di recensione. Non lo so tantissime. E poi ecco il Natale. Bellissima questa illustrazione di Natale all'interno della sala comune di Grifondoro. E poi abbiamo svariati dolcetti. Ed ecco qui la pozione polisucco. Con questo disco che andremo a girare, a ruotare, per creare diverse combinazioni. Guardate quanto è divertente questa cosa. Possiamo cambiare testa, occhi, bocca. E' davvero molto molto carina come cosa. Rende tantissimo l'idea della pozione polisucco. Altra illustrazione della sala comune di Serpeverde che abbiamo visto pochissimo nei film. E che in questa interpretazione di Mina Lima mi piace davvero molto. E mi piace l'uso del verde smisurato che hanno fatto. E anche del fatto che troviamo la piovra qui nelle finestre. Perché nei libri viene spiegato che le vetrate della sala comune di Serpeverde si affacciano all'interno del Lago Nero. Mi piace un sacco. E poi passiamo al diario di Tom Riddle. Ecco qui ancora Mirtilla, il bagno. Quindi la storia procede. Siamo a San Valentino con la sala grande addobbata a tema. Molto molto divertente. Molto bella questa illustrazione. Molto bello questo uso degli angoli per raccontare questi ricordi che va a rivivere Harry. E poi Cornelius Fudge, ma io lo chiamo Caramel. E ecco che ci avviamo verso la conclusione. Qui abbiamo una vista dall'alto dell'infermeria. Abbiamo Harry e Ron che vanno a fare visita ad Hermione. Molto belle queste prospettive dall'alto. Sono davvero molto molto fighe. Ovviamente anche capitolo dedicato ad Aragog. E ecco che abbiamo questa vetrata di Hogwarts che si affaccia sul lago. Io la trovo molto romantica. Molto molto rilassante. Molto bella. Ancora ragni. Tantissimi ragni ragazzi. Se avete la fobia dei ragni evitate questo libro. Perché ce ne sono tantissimi. E questa cosa mi piace un sacco. E poi ecco che arriviamo finalmente alla Camera dei Segreti. Quindi ecco che dovrebbe esserci un nuovo elemento interattivo dedicato alla Camera dei Segreti. Qui troviamo l'anagramma di Tom Marvolo Riddle in I am Lord Voldemort. E poi la nostra fenice col cappello parlante. Ed ecco qui che abbiamo la Camera dei Segreti con il basilisco che fuoriesce dalla bocca della statua. Un po' come accade nel film. Anche questa nella sua semplicità è fantastica. E poi ci avviamo alla conclusione. Troviamo i ragazzi attaccati alla coda della fenice che risalgono i tunnel verso il bagno di Mirtilla. E poi naturalmente la liberazione di Dobby che riceve il suo calzino. Eccolo qui il nostro piccolo Dobby. Super super carino. Ed ecco che troviamo anche Dobby che ringrazia Harry per averlo liberato. E poi arriviamo alla fine del volume col nostro espresso per Hogwarts che si sta per allontanare dalla banchina. Ragazzi il libro è sempre bellissimo. L'abbiamo visto molto in velocità ma vale assolutamente la pena. La copertina è qualcosa di incantevole come sempre. Io sono totalmente innamorato da queste versioni di Mina Lima. Acquistatela adesso perché sono comunque destinate ad aumentare il loro valore nel tempo. Se vi capita la prima stampa prendetela al volo. E ovviamente ragazzi troverete il link sotto in info box per acquistarlo. Naturalmente fatemi sapere cosa ne pensate voi nei commenti. Lasciate un mi piace. Iscrivetevi al canale qualora non foste ancora iscritti. E naturalmente ragazzi noi ci vediamo prestissimo con tante altre novità e tantissime altre recensioni. Ciao! Ciao!